La terza corsa è la seconda manche del Tommaso Grassi Award di questa sera, stavolta il campo è completo, non ci sono defezioni, all'uno cometa la torre Marcello Di Nicola, due Cartier, Antonio Simioli, tre Columbus Gaps René Legati, quattro Commander Crow Santo Mollo, cinque Costa Magna Pax Giorgio D'Alessandro, sei Dakota winner Vincenzo Luongo, seconda fila sette Butterfly Horse, Massimo Castaldo otto, Balsamo Leone Marco Volpato, nove Attila Maurizio Icchieli, dieci Amore Stecca, Edoardo Baldi, autostart che accelera, problemi per Columbus Gaps, partiti con la velocità da parte di Costa Magna Pax che va a condurre nei confronti di Cartier, Sbaglia Dakota winner ad imboccare la prima curva, si sistema in terza posizione, Commander Crow avanti a cometa la torre, di fuori c'è Amore Stecca, i primi duecento metri passati in quindici e uno da Costa Magna Pax che ha preso la testa e ora guida nei confronti di Cartier che rimane seconda, Amore Stecca che avanza allo scoperto, trascinandosi Attila, mentre ha sbagliato anche cometa la torre dopo quattrocento metri di corsa, passati in trentuno e quattro. Si approccia la curva di sinistra con la battistrada interpretata da Giorgio D'Alessandro che rallenta il ritmo in maniera anche drastica, Amore Stecca che avanza allo scoperto, trascinandosi Attila, i seicento metri se ne vanno in quarantotto e mezzo, il passaggio davanti alle tribune, Costa Magna Pax che fa quello che vuole del cronometro portandosi sempre in sci a Cartier, di fuori rimane Amore Stecca avanti ad Attila e quindi a Balsamo Leone in terza pariglia, la retroguardia c'è Butterfly Horse. Gli ottocento passati in uno e quattro addirittura, trentadue e sei il secondo quarto di gara, Costa Magna Pax che risparmia tutto quello che può risparmiare quando siamo quasi al completamento del primo chilometro, Amore Stecca che all'esterno non attacca, i mille di gara in uno diciannove e sette, tutto cristallizzato, a meno che finché qualcuno non farà una mossa dalle retrovie, mossa che non c'è e allora si continua ad andare piano con Costa Magna Pax che ora viene sollecitata per accelerare a quattrocento metri dalla conclusione, la retta opposta di tribuna è passata in accelerazione in quindici, Costa Magna in vantaggio, Amore Stecca che attacca, Attila in terza corsia, Costa Magna che è richiesta per difendersi da Amore Stecca e da Attila, poi Balsamo Leone, alla corda sempre Cartier in attesa dell'open stretch, la retta d'arrivo con Cartier che va di dentro, a largo c'è Attila che esiste in mezzo alla pista, Amore Stecca sul passo, è in vantaggio Attila che è passato nei confronti dei rivali, Attila che viene a vincere e regala il doppio a Maurizio Kelly, netto vincitore Attila al secondo posto, finisce ancora probabilmente Amore Stecca nei confronti di Balsamo Leone che è finito forte a largo, ma bisogna andarla a rivedere, il successo però è nettissimo per il numero 9 di Attila, Maurizio Kelly che si porta a 20 punti in classifica, Marco e Lorenzo Bortolotti, colori di Guido Mezzetti, facile assunto per Attila che vince come vuole dalla pariglia, al secondo posto è Amore Stecca, per il terzo è molto stretta tra Balsamo Leone all'esterno che copre e costringe alla fotografia Cartier che si era infilata in open stretch, il successo però è tutto per Attila, Maurizio Kelly, Lorenzo Bortolotti, Guido Mezzetti.